La purificazione Parlare di purificazione è chiarire che le pene dell'inferno riguardano i dannati che hanno liberamente scelto la ribellione a Dio. Le pene del purgatorio sono dirette a purificare le anime degli eletti che sono morte nell'amicizia del Signore. Le anime che muoiono nel Signore nella condizione di purificazione continuano, quell'ascese già cominciato sulla terra, continuano questa purificazione nell'altra vita fin quanto non ottengono la veste nuziale. E' bene inoltre anche precisare che la sofferenza del purgatorio non è capace di accrescere i meriti già che dopo morte non si può più meritare. E questo ci dice che se dobbiamo arricchire la nostra anima dobbiamo darci da fare fin quanto il Signore ci dà vita su questa terra. Possiamo paragonare la sofferenza a delle cure mediche che producono dolore ma che guariscono le ferite così le pene del purgatorio rendono l'anima splendente più della neve. Inoltre, non ripetere un errore del passato affermando che la differenza tra l'inferno e il purgatorio c'è soltanto una differenza di durata ossia l'inferno è eterno e il purgatorio è temporaneo. In verità la differenza è sostanziale. Nell'inferno non c'è Dio, non c'è amore, nel purgatorio c'è amore e quindi attesa di partecipare alla vita divina. Abbiamo un episodio di un'apparizione di un novizio cappuccino riportato dai nostri annali e un novizio cappuccino che possiamo dire dà un po' di fastidio a Padre Pio perché Padre Pio sta nel coro a pregare mentre i frati sono scesi a cena e questo novizio fa dei rumori in chiesa. Addirittura a un certo momento si sente proprio un fracasso di canteliere che cadono, di cantele che cadono, eccetera. Padre Pio si alza dallo scanne e va al parapetto del coro e grida perché vede lì una persona, un chierico vestito da frate che si muove intorno all'altare e che fai lì? Chi sei? Sono un novizio cappuccino che quando qui nel convento c'era un noviziato nel fare le faccente e la pulizia in chiesa sono stato molto, molto distratto e poco diligente e adesso faccio la mia sofferenza, il mio sconto del mio peccato. E Padre Pio assicura la preghiera per questo novizio e il novizio scompare e scendo giù al refettorio dove ci sono i frati che stanno a cena e racconta l'accaduto e tutto lo vedono che è pallido, tremante e gli danno coraggio. E poi Padre Pio dice a Emanuele Brunatto un signore che in quel tempo viveva in convento dice accompagnami in chiesa cioè Padre Pio si vuole rendere conto se gli occhi, le orecchie, cioè i suoi sensi avevano veramente percepito un rumore avevano parlato con un'altra persona e quindi vuole andare in chiesa per rendersi conto e quindi vanno in chiesa e fa salire fa salire Emanuele Brunatto sull'altare e dice sta tutto in ordine e Emanuele grida ma quale tutto in ordine qui è un macello ci sono le candele tutte rotte per sopra i cantilieri stanno tutti rovesciati e Padre Pio possiamo andare possiamo andare, tutto bene cioè sono, non sono stato un illusionista ma veramente ho parlato con un'anima del purgatorio veramente ho assistito a questo disastro di pulizia non fatto una volta e non ripetuto bene neppure la seconda volta e quindi anche questo episodio ci fa capire che più che parlare di un luogo del purgatorio e di una durata del purgatorio è bene parlare di intensità di dolore e questo risolve tanti punti interrogativi che noi possiamo metterci sulle anime che vivono in purgatorio e quindi la faccenda del novizio è importantissimo proprio per questa istruzione che ci viene data e quindi Padre Pio aggiunge è meglio allora durante la vita prepararsi alla vita futura affinché più che ricevere preghiere per la nostra purificazione le preghiere stesse che ci vengono date dalle anime della terra possono essere utilizzate per la salvezza degli altri grazie a tutti grazie a tutti